Musica Nel periodo dell'emergenza sanitaria torna puntuale la rassegna Nonno Ascoltami, saranno tante le piazze attenzionate. Mauro Menzetti, fondatore di questo progetto lungimirante. Quest'anno più che mai Nonno Ascoltami deve andare in piazza, deve andare incontro a quelle persone che hanno avuto difficoltà di udito proprio durante il Covid, difficoltà a seguire lezioni a distanza, a lavorare a distanza, soprattutto gli anziani hanno avuto difficoltà a essere connessi con i propri cari, con la propria famiglia. Ecco che l'udito dall'essere la cenerentola un po' trascurata molto spesso, motivo per cui 11 anni fa abbiamo scelto insieme al Ministero della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità addirittura di portare gli ospedali in piazza e incontrare dei boli di udito. E quest'anno più che mai, dicevo, con l'esperienza del Covid si è reso necessario uno sforzo in più, uno sforzo logistico, economico. E' molto più faticoso fare Nonno Ascoltami quest'anno, ma quanto mai necessario per andare incontro a tutte quelle persone che non hanno avuto la possibilità di incontrare il proprio medico, il proprio sanitario e diagnosticare il problema di udito. Quindi anche noi, come patologia certamente minore rispetto alle altre patologie più importanti, anche noi abbiamo subito un ritardo importante di prevenzione. Ecco perché quest'anno più che mai Nonno Ascoltami c'è. Saranno controlli in sicurezza, lo vogliamo ribadire proprio per fugare ogni dubbio in merito? Sì, su questo abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo ingaggiato dei consulenti, degli specialisti appunto nel campo della sicurezza, abbiamo rispettato tutte le norme. Domenica scorsa già abbiamo fatto una prova generale, Udine, Siena, Pescara, per vedere un po' come risponde la gente. E devo dire che avendo fatto tutte le cose per bene, nel rispetto delle norme anti-Covid, tanta gente si è affidata a noi con grande fiducia. Valentina Faricelli, presidente dell'Associazione Nonno Ascoltami, allora si ricomincia nonostante l'emergenza sanitaria? Ricominciamo a maggior ragione con l'emergenza sanitaria perché sicuramente le persone affette da disturbi uditivi durante il lockdown hanno sofferto maggiormente, hanno sofferto l'isolamento, hanno sofferto la solitudine e quindi ci siamo sentiti in dovere di riportare la campagna nelle piazze per alzare l'attenzione sui disturbi uditivi negli anziani ma anche nei bambini. Abbiamo visto la didattica a distanza, un bambino che non sente bene con la didattica a distanza è fortemente penalizzato. Quindi ci auguriamo che almeno un effetto tra virgolette positivo ci sia stato, cioè quello di far comprendere alla gente quanto è importante sentire, quanto è importante stare bene in generale al 100%. L'udito è un senso importantissimo per non rimanere esclusi dalla società. Saranno test gratuiti e in tutta sicurezza, è bene ribadirlo. Assolutamente in tutta sicurezza, prima di tornare in piazza abbiamo contattato un'equip di ingegneri, abbiamo ridisegnato le planimetrie delle piazze, quindi tutto si svolgerà in assoluta sicurezza. In più abbiamo attivato sul nostro sito www.ditoitalia.it una procedura di prenotazione per cui le file saranno ordinate, ognuna avrà il suo numero di prenotazione e con l'occasione potrà anche fare un questionario per valutare già online la salute del proprio udito.